Partendo da una lettura marxiana, se non marxista, ora ho sempre il timore che poi Gianni intervenendo dopo mi corregga, però mi pare che sulle tesi su Feuerbach Marx dicesse i filosofi hanno solo interpretato il mondo, peraltro in modi diversi, si tratta adesso di cambiarlo. Ecco, mi trovo in una situazione abbastanza simile, trovo il rischio di una discussione che sia soltanto sull'interpretazione del mondo laddove noi dovremmo innanzitutto cambiarlo, però probabilmente ho fatto una riflessione su Marx, per questo si autospenge, poi adesso quando rinizia la mia parte regolare, tranquillo, è tutto studiato, è l'unica cosa su cui è d'accordo con una parte del partito. Allora, al di là delle battute, il tema è quello di inserire questo ragionamento di natura anche più politica o politologica dentro il quadro di profonde modifiche che noi stiamo vivendo nel nostro Paese.